La gioia nel cuore e l'emozione negli occhi. E se nel mondo tutti facessero musica sicuramente sarebbe un mondo migliore. La gioia nel cuore e l'emozione negli occhi. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. , 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 ,, , , ,, ,, ,, , ,, 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 In te noi confiliamo, tu sei il pane nostro. In te le io ti grazia, signor come il mistero. In te le io ti grazia, signor come il mistero. Sei il pane, in te le io ti grazia, signor come il mistero. In te le io ti grazia, signor come il mistero. In te le io ti grazia, signor come il mistero. In te le io ti grazia, signor come il mistero. In te le io ti grazia, signor come il mistero. Grazie. Applausi. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 C'è la nostra vita, camminando insieme a te, vivremo in te per sempre. Cristo vive in mezzo a noi, alleluia, alleluia. Cristo vive in mezzo a noi, alleluia. Ci viviamo in mezzo a noi, alleluia, alleluia. Ci viviamo in mezzo a noi, alleluia. In mezzo a noi, alleluia, alleluia. Cristo vive in mezzo a noi, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Cristo vive in mezzo a noi, alleluia, alleluia, alleluia. Ci viviamo in mezzo a noi, alleluia, alleluia. Ci viviamo in mezzo a noi, alleluia, alleluia. Ci viviamo in mezzo a noi, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Il coro di Auronzo è un coro parocchiale formato da persone provenienti da tutte le tre parrocchie di Auronzo, parrocchia Regina Paci, Santa Giustina e parrocchia San Lucano. Il nostro compito principale è quello di animare le messe nelle tre parrocchie di Auronzo, nelle messe più importanti, nelle messe più solenni dell'anno liturgico. Oggi siamo venuti a cantare a Venezia. Siamo stati invitati a cantare un concerto che per noi è la prima esperienza. È stata sicuramente una grande emozione, una gioia vedere i cantanti e di cantare con la gioia nel cuore e l'emozione negli occhi. Il messaggio che voglio dare a tutti quanti è di fare musica sotto qualsiasi forma. Può essere suonare, cantare, ascoltare musica, qualsiasi cosa che fa musica sicuramente ti porta la gioia, la gioia nel cuore e la gioia soprattutto nel mondo. E se nel mondo tutti facessero musica sicuramente sarebbe un mondo migliore, un mondo dove ci sarebbe solo pace. E l'invito mio è chi vuole fare musica, vuole entrare a far parte di questo coro, è ben accetto, non serve essere professionisti nel cantare, nel suonare, niente. L'importante è voler stare insieme e avere un po' di passione di canto e di musica. Sicuramente l'avete cantato in questa chiesa. È la prima volta che facciamo un concerto fuori dal paese e di solito cantavamo nelle varie chiese, non ho cantato a Napoli, non ho cantato a Lore. Quindi la scuola cantano di Auronzo è formata da persone di diversa età, da tutte e tre le parrocchie. Saranno 15-20 anni che ci siamo riuniti e facciamo il servizio a tutte e tre le parrocchie di Auronzo. Infatti il coro si chiama Coro Interparrocchiale di Auronzo. Quindi ultimamente siamo cresciuti di 5-6 persone, quindi adesso addirittura saremmo dai 26 ai 29, ci siamo tutti. che cantare è bello, che si fa un servizio alla comunità e si fanno tante amicizie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.